A tutti ben ritrovati anche questa settimana le notizie della Diocesi di Vicenza con voce e parola a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, la voce dei Berici, Radio Oreb. La Forza della Vita ci sorprende, questo è il titolo scelto per la 46esima giornata nazionale per la vita che si celebra questa domenica 4 febbraio. Venerdì 2 febbraio anche la Veglia per la Vita con il Vescovo Giuliano H. Vazzale e sono davvero tante le testimonianze di chi crede nella Forza della Vita. Sentiamo. Quale vantaggio c'è che l'uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita? La CEI, Conferenza Episcopale Italiana, affida a questa domanda nel Vangelo di Marco, il senso di una vita dalla forza sorprendente, in cui credere sempre e comunque, perché è in grado di fronteggiare limiti e problemi, anche in maniera nuova e inattesa. Come sottolinea il dottor Fabio Chiarenza, direttore della Chirurgia Pediatrica di Vicenza, che nella chirurgia microinvasiva ha trovato una straordinaria alleata per aiutare la vita in difficoltà, ma dalle tante possibilità. Oggi c'è un paradosso, soprattutto nella nostra civiltà occidentale, per cui abbiamo la possibilità di curare i nostri piccoli pazienti, partendo da quelli proprio microscopici, di 400 grammi di peso, fino a quelli più grandi, con cure, tecnologie chirurgiche molto avanzate. Noi qui a Vicenza siamo molto conosciuti per utilizzare chirurgia mininvasiva, ad esempio, con piccolissime incisioni riusciamo a correggere gravi malformazioni, con un outcome, cioè con una prospettiva di vita dei pazienti e di qualità di vita veramente elevata. E purtroppo il paradosso qual è? Che nascono sempre meno bambini, per una serie di motivi che tutti noi conosciamo, ma anche per motivi alle volte legati alla paura dei genitori. Questo per noi è una sconfitta terribile, perché rispetto a 30-40 anni fa, il nostro tipo di chirurgia ha fatto dei passi da gigante. Noi abbiamo degli adulti che avevano delle gravi malformazioni, che sono degli adulti normali, hanno famiglia, hanno anche figli e hanno una vita lavorativa normale. E chi ha scelto di farsi sorprendere dalla forza della vita è anche Stefania, che con volontà e fede si è messa accanto in ascolto del suo Tommaso e di chi ha saputo organizzarsi per portare aiuto, informazioni, vita a tanti ragazzi con la sindrome di Down. Io sono Stefania, sono mamma di Tommaso, un ragazzo Down che ha 23 anni, un ragazzo che frequenta l'agenda nelle attività del pomeriggio e al mattino ha un inserimento lavorativo da chiabi dalle 8 a mezzogiorno. Abbiamo affrontato questa cosa con le nostre difficoltà, però anche con una certa serenità. Tommaso mi sorprende quando vedo, mi accorgo, quando le cose che lui pensa sono molti di più di quello che riesci a dire e a fare. Ogni figlio ha un'esperienza a sé, avere un figlio con handicap è un'esperienza molto impegnativa, molto bella per alcuni aspetti, perché ti mette di fronte alla vita, molto più che in altre situazioni, alle problematiche varie. La fede ci ha aiutati per quanto ci riguarda. Abbiamo anche aperto la porta, mi sono fatta aiutare tanto. Quando è nato Tommaso io lavoravo, mi sono fatta aiutare tanto. Non ho chiuso la porta simbolicamente pensando solo alle nostre fatiche. Credo che questo ci abbia aiutato tanto e ho trovato anche persone che mi hanno dato tanto una mano. Le cronache di questi anni ci parlano sempre più spesso di maltrattamenti, violenze di genere, atti persecutori associati anche al disagio giovanile, fino alla triste vicenda di Giulia Cecchettin, che ha messo in risalto tutti questi aspetti, per fortuna con un aumento delle denunce anche a Vicenza. Situazione che all'attenzione del consultorio familiare Rezzara, che in particolare ha messo in campo due nuove iniziative, sostenuto dalla Diocesi e riconosciuto dalla Regione Veneto. Una felice intuizione della Diocesi di Vicenza, in particolare di Monsignor Giuseppe D'Alferro, diede vita al consultorio Rezzara nel 1966, ben dieci anni prima che la Regione Veneto istituisse i consultori. Si avvertì infatti la necessità di disporre di uno strumento qualificato per rispondere alle fragilità sia dei singoli che delle famiglie. E il consultorio Rezzara, 200 interventi familiari nel 2023 tra divorzi e relazioni difficili, non solo opera oggi con quattro sportelli, tre in provincia e uno a Vicenza, ma continua il suo impegno nel rispondere ai bisogni emergenti del territorio. Sono avviate da pochissimo due nuove iniziative, molto importanti, perché hanno letto il problema dei tempi, dei tempi attuali. La prima iniziativa è un percorso di recupero dei soggetti maltrattanti, di tragica attualità, due quei soggetti che sono operatori di violenza in famiglia. La legge italiana prevede che nel caso di richieste di sospensione della pena venga fatto un percorso riabilitativo e quindi il consultorio Rezzara mette a disposizione le proprie echippe di psicologi per questi soggetti quando venga fatta una richiesta da parte del giudice. La seconda iniziativa ci riguarda il disagio giovanile, che è esploso, come sappiamo e vediamo purtroppo anche a livello familiare, soprattutto dopo le pandemie del Covid, dove i ragazzi, gli adolescenti hanno difficoltà nell'affrontare anche i semplici problemi scolastici o sportivi, con ricadute importanti anche a livello delle famiglie. Il consultorio mette a disposizione uno sportello dedicato a questi casi, aprendo anche al sabato in modo che ci sia facilità di ingresso, con tre visite gratuite, e poi una liberalità in base alle possibilità economiche della famiglia. E ora la parola al direttore della Voce dei Berici, Don Alessio Graziani, per le principali notizie nel settimanale in uscita. Quando la vita ti sorprende, nella Voce dei Berici di questa settimana, vi raccontiamo tre storie a lieto fine. Quella di una ragazza che ha deciso, nonostante tutto, di tenere il proprio bambino. Quella di una persona che per una serie di vicissitudini si era ridotta a vivere in strada e ha avuto la possibilità di un riscatto sociale. E infine quella di una giovane donna salvata dalla prostituzione grazie ai volontari della Papa Giovanni XXIII. Tutto questo a partire dal messaggio dei nostri Vescovi per la giornata della vita che si celebra in questa domenica. Ancora nelle pagine di Chiesa vi annunciamo la visita ad limina dei Vescovi del Triveneto da Papa Francesco, tra cui anche il nostro Vescovo Giuliano. Ancora apriamo gli orizzonti con un'analisi sulle fragilità e le ferite degli adolescenti di oggi. C'è anche un nuovo servizio, uno sportello giovani, offerto gratuitamente dal consultorio Rezzara di Vicenza. Il confessore di Paolo Borsellino sarà a Ronca per incontrare in modo particolare gli studenti delle scuole e portare così la propria testimonianza. Nelle pagine di Cultura le ricche proposte della Sala della Comunità di Vodi Brandola e del Circolo Laudato Si di San Giorgio in Bosco. Queste e altre notizie sul numero della Voce dei Berici che potete trovare nelle nostre parrocchie, ricevere in abbonamento anche nel formato digitale. Una buona lettura a tutti voi. L'agenda è in primo piano un appuntamento importante per il Vescovo Giuliano e per la nostra Chiesa. Si tratta della visita ad limina apostolorum in Vaticano. È l'incontro che ogni cinque anni i Vescovi di tutto il mondo hanno in Vaticano con il Papa per illustrare le particolarità che contraddistinguono la loro regione ecclesiastica dal punto di vista religioso, sociale e culturale, quali siano poi anche i nodi maggiormente problematici e come può intervenire la Chiesa. Ancora l'inaugurazione dei restauri della Chiesa, a Motta di Costa Bissarra, sabato 10 febbraio alle 19, presiede l'Eucaristia il Vescovo Giuliano. E la 32esima giornata mondiale del malato, domenica 11 febbraio, iniziative parrocchiali sul tema Curare il malato, curando le relazioni. È il momento della parola con il commento al Vangelo della Domenica, cura di Gian Pietro Zampiva della Pia Società San Gaetano di Vicenza. Ben trovati al commento del Vangelo di questa domenica. La Lidologia ci propone la guarigione della suocera di Pietro. Siamo all'inizio del Vangelo di Marco, al capitolo 1, ai versetti 29-39. Questo racconto è un catechismo intero, quasi che il Signore Gesù, in questi primi gesti che compie, che vengono raccontati dall'Evangelista, ci voglia dire tutto quello che in Gesù possiamo imparare. Il Vangelo ha fretta di raccontare il miracolo, quasi come il passo degli apostoli che sono coinvolti nell'evento. Tuttavia vorrei cominciare dalla parte finale del racconto. Dove c'è un'insistenza quasi al limite di forme sgrammaticate, perché c'è un'insistenza tale sulla parola tutti. Tutta la città correva a lui. Tutti volevano cercare Gesù, tutti andavano da lui. Ci viene anche da domandarci, ma sarà proprio stato così che tutti volevano andare dal Signore Gesù, quando noi sappiamo anche il contrario? Cioè ricordiamo anche che sempre lì a Cafarnao, Gesù dirà agli apostoli, volete andarvene anche voi, perché ha visto gli altri, tanta gente ad andarsene, a non essere più interessata di lui. Sarà Pietro a dire, Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Allora ci domandiamo che cosa volesse dire il Vangelo, l'Evangelista Marco, con questa insistenza, che tutti volevano andare dal Signore Gesù. Io credo che tutti noi, ogni uomo e ogni donna, tutti cerchiamo il Signore, anche quando non riusciamo ancora a conoscerlo, anche quando non sappiamo individuare le tracce dove poi anche gli apostoli dovranno seguire il Signore dopo questo evento. Tutti noi cerchiamo libertà, guarigioni interiori, cerchiamo senso di vita, cerchiamo un tempo di eternità già nella nostra esistenza. E questo viene ambientato nella casa di Pietro. Gesù, pochissimo fa, pochi momenti precedenti a questo evento, ha guarito, ha liberato quell'uomo nella sinagoga di Cafarnao dallo spirito del male, e sempre lì, a pochi passi, ora va, esce dalla sinagoga ed entra nella casa di Pietro. Gesù poteva approfittare di questo momento, dopo aver guarito l'indemoniato nella sinagoga di Cafarnao, poteva approfittare del clamore che si stava gonfiando attorno a lui. Ma Gesù non voleva questo, voleva di fretta con Simone andare nella casa di Pietro. E questo ci insegna un altro messaggio, ci consegna questo. Gesù, oltre che la sinagoga, luogo riconosciuto per il culto, luogo dell'incontro dell'assemblea credente che lode il Signore fa della casa di Pietro, che riconosciamo la Chiesa, ma sono anche le nostre case di tutti noi, fa delle nostre case il luogo sicuro, certo, dove si può fare esperienza di incontro con il Signore, possiamo lodarlo e possiamo ricorrere a Lui per le nostre necessità. in questo tratto brevissimo tra la sinagoga e la casa di Simone Pietro, la suocera, si sa, viene detto da racconto, che era letto con la febbre, ma tutti gli parlarono di lei. E questo è bellissimo, vedere che prima di ogni diagnosi ci sia stato il tempo di parlare di questa donna, o forse possiamo anche pensare che la memoria della vita di questa donna, parlando di lei a Gesù, già questo è stato terapia. È veramente sorprendente che degli uomini si dedichino a parlare a Gesù di questa donna, una suocera eppure ammalata. Anche questo fa parte del miracolo che si sta per compiere. Anche questo è uno stile da imparare, parlare, cioè, a Gesù di chi ci sta a cuore. Siamo nel mese di febbraio e tradizionalmente si celebrano delle iniziative per ricordare e pregare per la vita religiosa nella Chiesa. Tra tutti coloro che cercano Gesù ci possiamo collocare anche noi religiosi. Un po' come gli apostoli che alla sera si sono messe sulle tracce del Signore Gesù, quasi per volerlo ritrovare di nuovo. Lo Spirito Santo suscita i carismi e tutti portano a Gesù, li suscita nella Chiesa, lo Spirito Santo. E anche la vita religiosa deve essere continuamente rialzata dal Signore Gesù. Così come ha fatto Gesù con la suocera di Pietro, sempre anche la vita religiosa, bisogna che il Signore Gesù la rialzi e la renda capace di dedicarsi, di donarsi agli altri. E dobbiamo parlare a Gesù delle nostre opere, dobbiamo parlare a Gesù di tante persone che possono essere raggiunte dal nostro agire, dai nostri servizi. Si parla di febbre nella guarigione della suocera di Pietro e dobbiamo riconoscere che qualche volta anche la vita religiosa può avere la febbre. Buona domenica a tutti nell'ascolto del Vangelo di oggi. E buona domenica anche da parte della redazione. Arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.